La disidratazione che tende ad esserci e la vasodilatazione periferica possono portare grossi problemi, il peggioramento dello scompenso, ischemia perché c'è meno perfusione coronarica e un'eccessiva risposta ipertensiva delle persone che assumono farmaci. Quindi in questi pazienti va sicuramente dosata maggiormente la terapia, vanno prese delle precauzioni con una maggiore idratazione e sicuramente va consultato il medico di base o il cardiologo di riferimento per capire quali sono gli aggiustamenti da porre in questi pazienti. Dottore, ma quali consigli dare a chi invece non soffre di patologie cardiache? Ad esempio, immagino, nessuno si mette a fare sport nelle ore più calde. Sicuramente le persone che non hanno cardiopatie hanno meno problemi rispetto ai pazienti cardiopatici, chiaramente, però anche chi non ha patologie, intanto non ha patologie note, magari ha delle patologie meno diagnosticate ma possibilmente presenti. Ma comunque chi è sano deve comunque fare attenzione. Per esempio l'attività fisica è una cosa importante perché porta ad un'abbondante sudorazione. Da allora se non si reintegrano i liquidi in maniera adeguata si possono avere problemi di ipotensione anche fino ad arrivare agli svenimenti con calute e sincopi e traumi connessi. Sì.